ciao a tutti io sono barbara e io sono lara continua l'avventura degli unicorni la storia scritta da noi ambientata un po nel mondo lol e un po nel mondo degli unicorni vi ricordo se vi piacciono le nostre storie iscrivetevi al canale e spuntate la campanella così sarete i primi a vedere i nostri video i primi e poterli commentare e non ne perderete neanche uno buon divertimento comincia la storia è un nuovo giorno a casetta lol le lol sono tutte quante occupate ognuna sta facendo qualcosa fashion pensa alla moda rocker si affaccia dalla finestra bonbon chiacchiera con alicina le due lolina e brillolina sono in cucina alice guarda alice guardi all'aria alice guarda l'aria e le tipitine sono in giardino che giocano con la palla e stanno sul prato sulla loro copertina colorata felice non è che qualcosa da mangiare ma c'è la cucina no cellulina che non mi dà mai niente e allora niente profane è ok le piccoline giocano a tirarsi la pallina e si divertono tantissimo a vedere i poteri di zuccherina infatti appena possono le chiedono di trasformarsi e in un piccolo unicorno e zuccherina non se lo faceva dire due volte infatti con un tocco magico diventava subito un piccolo unicorno per poi tornare quando vuole una piccola lilla ancora 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 dopo un po di trasformazioni notarono gli specchi del portale magico ci giochiamo costruirono un percorso divertente e cominciarono a saltellare allegramente da uno specchio all'altro ogni lille si metteva in fila e tutte quante facevano il circuito si stavano divertendo veramente tantissimo e avevano messo gli specchi in tante forme diverse la forma più bella che avevano costruito era quella di un cuore saltellavano giocavano si divertivano tantissimo quando a un certo punto accadde una cosa molto molto strana tutti saltavano sugli specchi ma quando la piccola zuccherina che in quel momento era unicorno saltò sullo specchio centrale improvvisamente sparì non c'era più era finita dentro gli specchi le altre lille oh erano stupefatte oh zuccherina si misero anche loro a saltare sullo specchio centrale ma loro non si muovevano per niente allora immediatamente andarono a chiamare aiuto la piccolina si era ritrovata e nel mondo degli unicorni era molto strano i colori erano strani era tutto particolare per terra vede apparire dei bollini colorati erano coriandoli e decise di seguirli lullina 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 eh ditemi ragazze che cosa succede eh eh zuccheri tecnicamente zuccherina eh che successo è diventata un unicorno sì lo so è saltata su uno specchio eh e quindi l'ha rotto no non si rompono e allora che è successo sparita ah e l'avete chiamata siamo saltate pure noi sopra lo stesso specchio ma non è successo niente ah mistero e andiamo a vedere che dici brillolina sì dai fatemi vedere che cosa è successo ecco tecnicamente saltavamo qui sopra e dovessi andare in quello centrale sì non succede niente e alice alice sentici presti il libro arrivo alice eh il libro quale alice il libro degli unicorni corre ah sì ho capito arrivo allora alice che cosa dice il libro sì il libro dice che questa forma di specchi e informazioni di cuore in realtà favorisce una porta a spazio temporale con regno degli unicorni eh è inutile che io ti spieghi queste cose se poi non le riesci a capire ma in effetti è un po complicata come cosa in quel momento arriva stella buongiorno è stellina ma guarda la porta del futuro che c'è quella è la porta del futuro veramente stella spiegò loro che quella particolare forma a cuore conduceva nel regno degli unicorni ma in una dimensione di tempo differente quindi la piccola zuccherina in versione micropony era andata a finire nel regno degli unicorni del futuro e quindi bisognava capire che cosa sarebbe successo camminando camminando era arrivata in un punto pieno di nuvole stelline a un certo punto sentire gli zoccoli e vede arrivare verso di lei qualcosa di gigante guardò verso l'alto e c'era un unicorno ma grandissimo proprio davanti a lei con le sue alucce volò fino a mezz'aria in modo da poter guardare negli occhi quella magnifica creatura ciao ciao e tu chi saresti e io io sono te come sei me sì io sono te nel futuro veramente io diventerò così eh già diventerai proprio così mamma mia che emozione ma com'è possibile che io ti riesca a vedere perché sei in una dimensione diversa entrando nel regno degli unicorni passando per il portale in forma di cuore sei semplicemente entrata nel futuro veramente ma io posso diventare anche una lil eh già lo so bene vuoi vedere come sarai nel futuro come lil sì sì molto allora scendi e guarda nello specchio e capirai come sarai da grande zuccherino unicornina era scesa per andare a vedere dove le aveva detto il grande unicorno si stava specchiando e non si accorse che proprio dietro lo specchio stava sobraggiungendo una figura meravigliosa ma ciao ma chi sei tu io sono te come sei me non capisco io sono un'unicornina in questo momento tu sei una lol eh sì e c'è anche lei che è me e come faccio a essere sia un unicorno grande che una lol non lo so potete venire con me nel 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 a casetta lol ma certo torniamo nel passato venite insieme a me dovete entrare in questo specchio aspetta lo metto giù lo metto giù basta che ci saltate dentro e ritorniamo di là ok ok non entro aiuto prova tu prova tu prova tu niente non entro neanche io e come è possibile chissà provo io provo vado eh zuccherina era passata era tornata nel presente lasciando però in quel regno lontano nel tempo la se stessa inversione unicorno e la se stessa inversione lol e quindi scusate fatemi capire ma è pericolosa questa cosa no non è pericoloso perché è tutto a posto lei può tornare quando vuole ah meno male quindi non è pericoloso no te l'ho appena detto non fecero neanche in tempo a finire di dire quello che stavano dicendo che magicamente zuccherina era già tornata oh guardate è tornata adesso si sta per trasformare di nuovo in lil oh eccola qui allora dove sei stata sono stata nel regno degli unicorni ma nel futuro ah eh sì l'abbiamo appena letto ce l'ha spiegato anche stella sì ma non capisco per quale motivo sono tornata da sola perché scusami sei andata giù da sola per quale motivo dovresti essere tornata in compagnia no non hai capito nel regno degli unicorni ho incontrato un unicorno grandissimo stupendo veramente sì e anche una lol cosa una lol unicorno veramente sì scusami perché non sono tornate con te non lo so non ho saputo il motivo devo tornare giù e capire perché non serve che tu torni giù te lo spiego io veramente stella sì tesoro quelli che tu hai incontrato giù eh chi sono? eh non sono altro che te stessa cioè? cosa? ebbene sì zuccherina nel regno degli unicorni del futuro aveva visto se stessa in versione unicorno e se stessa in versione lol era praticamente semplicemente lei da cresciuta quindi non poteva tornare indietro portandosi anche il suo futuro e quindi non la vedremo mai l'altra lol oh che peccato non c'è modo di farlo io volevo tanto portarla qui io penso che sia veramente complicato lolina non aveva una soluzione stella neanche l'elil men che meno zuccherina era un po' triste perché non sapeva più in quale dei due mondi voleva stare le mancava la sua alter ego ma fondamentalmente stava molto bene a casetta lol alla fine alice ebbe la soluzione oh ma ciao alice eh abbiamo un problema quale? zuccherina ha incontrato se stessa grande nel futuro oh che bello e anche se stessa unicorno grande nel futuro oh che bello ma non può portarli nel presente perché scusate? è perché non può passare dalla porta temporale ehm portando se stessa e se la sduplicassimo? oh è vero il potere della sduplicazione di alice non ci avevamo mica pensato zuccherina cosa ne pensi? sì possiamo provare allora quindi come si fa? niente eeeh alice ti prego sduplica allora l'unica cosa che puoi fare alice secondo me è metterli al centro dello specchio e provare la sduplicazione mi sembra un'ottima idea vado? sì vai e così alice si mise al centro del cuore di specchi e cercò di fare una strana la più difficile di tutte le sue sduplicazioni e improvvisamente a casetta Lolla apparve un unicorno grandissimo con i capelli lilla tatuato di glitter una cosa mai vista e veramente veramente meravigliosa stellina era impazzita oh ma sei proprio bellissimo che cosa emozionante e anche le lille le lol erano tutte piene di uuuh oh ah di stupore e non avevano ancora wow visto tutto ragazzi venite qui infatti stellina aveva fiutato una pallina con fettipop l'ollina era stupefatta ma qui c'è una lol toccherà aprirla oh sì sì apriamola alice grazie alice era riuscita a fare veramente una sduplicazione straordinaria zuccherina era contentissima apriamo che dici sì apriamo dai chiamo barbara sì mara barbara sì che c'è l'olino ragazzi che cosa c'è e ci aprite questa bull oh mamma mia è una pallina lol scusami ma dove l'avete presa l'abbiamo presa nel regno degli unicorni nel regno degli unicorni ragazzi ormai le magie con voi sono all'ordine del giorno e come avete fatto la sduplicata alice oh mamma mia ok allora alice ha sduplicato una lol nel regno degli unicorni esatto dal futuro dal futuro ragazzi questa storia è del fantastico e scusami e chi ci sarebbe qui dentro zuccherina no zuccherina è lì zuccherina nel futuro cioè zuccherina grande esatto non ci credo prova e amboxiamo levo un attimo gli specchi se posso e facciamo prima vediamo è già scartata però c'è ancora il bollino eh sì vediamo un po' chi c'è dentro allora qui c'è il filo da tirare e e niente solo il filo ma no ragazzi ma prova gli altri vediamo gli altri se c'è qualcosa vedo delle cose eh che sarò scarpe scarpine eh beh c'è una lol scarpe e un ciuccio un ciuccino d'oro delle scarpe a stivaletto bellissime belle mai viste almeno io dai chiudiamo mamma mia addirittura ci arrivano le lol non solo non l'hai ordinata su internet vero? ah no no addirittura ci arrivano le lol ormai dal regno degli unicorni uh che bel biberona ragazzi bianco e oro bello spettacolo allora andiamo avanti uh che bel vestitino wow ma è stupendo è super guardate un po' allora questa è una magliettina c'è un toppino con i colori pastello tira sì sì c'è una gondellina carina con la mutantina sotto con gli con i volanna che bei colori e qui niente ok è il momento di fare il vuoi fare tu il pop? sì attenzione lolina attenta perché ti vedo male oh lolina guarda tata non siamo riusciti a non a scannare lolina stupendo guardate allora qui c'è l'indizio l'hanno messo dentro una cartina la cartina questo qui che club è? theater e questo e sì c'è c'è l'indizio c'è una bustina chiusa ah c'è anche il tattoggino guarda ecco qui come quello di Angel del theater club giusto? ok allora c'è una bustina la apriamo? dai vai apri e qui c'è un'altra bustina con la bambola sì vediamo che c'è qui dentro oh ragazzi mi sa che avete ragione oh che bello questo c'è provalo posso? ok sono unicorno unicorno pure io apri 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 giovanni ragazzi io non so come avete fatto a fare questa cosa dal regno degli unicorni ma veramente allora allora è vero ha dell'incredibile mamma mia ragazzi guardate quanto è bella la lol unicorno è con noi sei bellissima che carinina la più bella del mondo ragazzi c'è Lara che balla perché ha capito una cosa la proviamo a bagnare ed eccoci pronti per il cambio colore già abbiamo visto che zuccherina cambia tantissimo prova a mettere la lilla nell'acqua fredda lei diventa super 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 colorata e super super fluorescente guardate quanto è neon quanto è fluo bene adesso tocca la sorellona proviamo prima nell'acqua calda vado? nell'acqua calda non succede niente ma niente 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 ci rimane l'acqua fredda siete pronti? cominciamo dai capelli wow capelli e riappare anche un po' di trucco mi sembra sotto gli occhi si si sono scuriti non sono diventati più fluo sono un pochino più dark vediamo il corpo pronti oh mamma mia cambia tantissimo le esce il body le calze a rete il toppino verde e le maniche a rete ma quanto è bella molto rock si molto trasgressiva rispetto a come era zuccherosina bellissima con il trucco sotto gli occhi veramente spettacolare ma ora dobbiamo vedere che cosa fa esatto vediamo se ah andiamo un po' vediamo un po' che fa sputo sputo laser quindi sputa e cambia colore spettacolo è veramente una cosa meravigliosa la facciamo tornare come era si ecco qui è tornata unicorno e adesso la vestiamo e quindi benvenuta si benvenuta eh forse se ti togli il ciuccio magari riesci anche a parlarci aspetta che te lo tolgo grazie ma dobbiamo ringraziare Alice eh grazie Alice di cosa? cosa avrei fatto? per avermi sduplicata si Alice tu sei riuscita a sduplicarla in modo che sia riuscita ad arrivare anche lei in pratica hai sduppiato a due dimensioni temporali ah si io ho capito com'è cose facilissime le faccio all'ordine del giorno io ormai grazie grazie Alice grazie grazie di cosa poi non lo so come non detta? no non ti preoccupare lei è fatta così è un pochino sbannita naturale però fa delle cose grandiose io immagino ben arrivata questa è casetta Lolla ti piace? bella qui viveremo un sacco di avventure ok e sono pronta per queste avventure anche noi ragazzi vi è piaciuta questa storia? avete capito? le lol e gli unicorni sono due mondi sempre più interconnessi e quindi ci saranno tante altre storie che vi vedranno protagonisti come sono emozionata mai avrei pensato che nel regno degli unicorni ci potessero essere delle lil e delle lol che bello che bello Barbara? sì lolina dimmi questa storia è troppo bella eh ma questa storia continua e quindi se vi piace la storia del regno degli unicorni continuate a seguire questo canale iscrivetevi cliccate le notifiche e fateci crescere dicendolo ai vostri amici continuate a vedere le nostre favole e continuate a ridere insieme a noi grazie per aver visto questa storia e un bacio a tutti quanti ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.